Buongiorno a tutti, oggi vi mostro le azioni sulle quali sto facendo il mio piano di accumulo per chi non lo sapesse, sì, io ogni settimana compro determinate azioni che scelgo tramite uno screener che mi sono creato e che oggi vi permetterò di provare gratuitamente per due settimane se volete riscattarlo, tra l'altro, potete tramite il link di iscrizione accedere a questa pagina qua dove potrete appunto comprare il prodotto gratuitamente e noi vi daremo l'accesso dovete semplicemente inserire la vostra mail, accettare qua, fare continuare e poi noi procederemo a fare tutto una volta che l'avrete fatto avrete accesso a questo file qua dove, su questa sezione qua che vi sto facendo vedere adesso avrete la possibilità di vedere quali sono le azioni che potrebbero sovraperformare il mercato nei prossimi 5 anni prima di farvelo vedere però ci tengo a precisare che io tutto questo lavoro qua lo sto facendo gratuitamente l'unica cosa che vi chiedo per ora è di lasciare un bel like per il supporto allora considerate che questo file qua solitamente noi lo metteremo in vendita all'incirca 25 euro al mese semplicemente perché è una screener che ti permette teoricamente e statisticamente di battere il mercato su un orizzonte temporale di 5 anni ovviamente è uno screener che utilizzo io con il quale cerco di battere il mercato ovviamente non si ha la certezza matematica soprattutto perché non siamo dei consumanti finanziari siamo semplicemente io e un mio collega che siamo appassionati del mondo del mercato azionario e semplicemente visto che investiamo i nostri soldi vogliamo rendere il nostro lavoro utile anche ad altre persone una volta che avrete avuto accesso a questo foglio qua in questa sezione vi sarà spiegato tutto io vi consiglio di leggervelo veloce e poi passare alla seconda parte considerate che io qua le ho messe in ordine da quella che teoricamente ci potrebbe fare ottenere più rendimento a quella che teoricamente ci farà ottenere meno rendimento ovviamente per essere acquistabile le azioni devono rispettare due requisiti uno è che abbiano come valutazione almeno 6 e due che abbiano un mare di sicurezza sopra il 20% questo cosa vuol dire? è spiegato qua però vuol dire semplicemente che teoricamente quell'azione lì ci dovrebbe garantire statisticamente e matematicamente almeno un 10% di rendimento annuo con un 20% di immagine di sicurezza quindi teoricamente un 10% annuo composto più un 20% dovrebbe essere in 5 anni almeno un 80% teoricamente questo qua è una cosa statistica matematica che si basa su dei criteri che abbiamo impostato noi ovviamente non si avrà mai la certezza matematica come potete vedere ovviamente questo file qua sarà gratuito solamente per due settimane visto che vogliamo farvelo provare e poi ovviamente sarà a pagamento come è giusto che sia perché questo lavoro qua ci ha preso all'incirca 6-7 mesi di sviluppo quindi diciamo che è giusto che veniamo anche noi ricompensati poi teoricamente questo file qua è anche bello perché si aggiorna giornalmente non solo con nuove azioni ma anche le sensazioni che sono all'interno di questo foglio qua vengono aggiornate e le analisi vengono aggiornate quotidianamente tutto grazie all'algoritmo che abbiamo studiato ed elaborato tra l'altro ci tengo anche a precisare che per tutte le persone che hanno riscattato l'accesso al foglio di Amazon vi abbiamo girato una mail nella quale vi diciamo che sarebbe questa qua che avete la possibilità ovviamente il free trial è finito quindi per 7 giorni lo avete avuto gratuitamente ora se avete piacere di o continuare ad avere Amazon che si aggiorna automaticamente ad 1€ al mese o se no avete la possibilità di provare Facebook e Google che trovate solo tramite questi link qua perché se voi andate sul sito ovviamente costano 2,99€ al mese però per le persone che avevano scaricato Amazon visto che sono state i primi quindi tra i primi 50 avete la possibilità tramite questi link qua di riscattare Facebook e Google ad 1€ al mese se volete provarlo se no nessun problema oltre a questo avete anche la possibilità di riscattare gratuitamente la newsletter questo qua è un piccolo esempio dove vi mostro le azioni che tendenzialmente io compro lunedì che sono quelle che vi voglio far vedere oggi come potete vedere il foglio lo utilizzo io perché ogni lunedì essendo che io ho un portafoglio molto diversificato ho tantissime azioni quindi questo file qua mi permette sempre di essere molto molto aggiornato sulle azioni che ho in portafoglio come potete vedere e come potrete immaginare io nell'ultimo periodo ho comprato tantissimo Micron Technology perché teoricamente secondo le nostre valutazioni è attualmente molto sottovalutata infatti il nostro giudizio è positivo quindi sottovalutata con un margine di sicurezza molto molto alto infatti il rating finale dell'azienda è di 8,25 che è molto molto alto considerate che sopra il 6 è teoricamente sottovalutata un'altra azione che ho acquistato molto come avete potuto capire nell'ultimo video è Amazon infatti ha una valutazione di 6,76 secondo i nostri calcoli è un price target a 5 anni di 9.800 dollari attualmente sta a 3.000 quindi potenzialmente si potrebbero fare un per 3 un'altra azione che non ho acquistato ma che attualmente secondo i nostri calcoli sottovalutata è Applied Materials non l'ho acquistata semplicemente perché 1 ho già 3 azioni quindi all'incirca ho 400 dollari su Applied Materials e 2 perché ci sto giocando tantissimi soldi quindi attualmente non mi interessa incrementare la posizione Etsy l'ho acquistata Alibaba ho ancora acquisito nonostante il fatto che io abbia già una posizione in porta al Alibaba ho contento ad acquistare Nike invece è un'azione che ho acquistato recentemente e che io reputo molto molto interessante tra l'altro rilascio anche un dividendo molto molto piccolo però personalmente è un'azienda che mi piace avere in portafoglio soprattutto perché è molto molto forte come brand e a me piace avere aziende forti come brand considerate che questo file qua è molto 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 interessante semplicemente perché qua avete tutto potete ordinare ad esempio le azioni in ordine dallo stato patrimoniale che teoricamente noi reputiamo migliore a quello peggiore stessa cosa vale per il conto economico o potete anche ordinare ad esempio per i multipli del prezzo ad esempio Momo è un'azienda cinese che ha un PI di 8 che è molto molto interessante infatti ha un rating basato sui multipli del prezzo molto molto alto ha 9,67 un'azienda che invece ha multipli prezzo molto molto brutti è Enphase perché? Perché ha un price to 6 molto alto un PI molto alto un price to free cash flow molto molto alto e stessa cosa vale per Nvidia, per Tesla, Square, Mastercard tutte quelle cose lì l'ultimo parametro è il rating analisi tecnica che si basa semplicemente su alcuni indicatori di analisi tecnica che appunto noi utilizziamo per capire se effettivamente in quel momento lì l'azione potrebbe essere sottovalutata considerate che il rating finale non è una media matematica fra queste cose qua ovviamente è una media ponderata in base all'importanza del dato lo stato patrimoniale sicuramente avrà più peso del rating analisi tecnica perché noi siamo investitori a lungo termine quindi vogliamo avere aziende solide all'interno del nostro portafoglio considerate che ordinato per nome si presenta così però io personalmente ve lo mostrerei così perché li metto in ordine per margine di sicurezza e come potete vedere ad esempio ci sarebbe Abvi che è un'azienda farmaceutica che ha un giudizio rosso semplicemente perché sì abbiamo la possibilità di guadagnare tanti soldi teoricamente su Abvi ma non ha un rating finale di 6 attualmente 5,5 perché? perché ha un stato patrimoniale molto molto tra virgolette brutto basato sui nostri indicatori un'altra azienda molto molto interessante che attualmente però non soddisfa tutti i requisiti è Square Square ha 5,52 come rating finale ma ha un margine di sicurezza di 32,63 quindi io queste aziende qua per ora le vado ad escludere quindi metto sì in ordine per margine di sicurezza ma aggiungo anche come parametro il giudizio quindi verde vuol dire buono rosso vuol dire negativo quindi aggiungo ancora questo parametro qua quindi teoricamente le aziende su cui io personalmente investirei in questo momento qua sono queste qua evidenziate di blu personalmente io faccio così e questa strategia qua nell'ultimo anno mi ha permesso di sovraperformare di tanto le S&P 500 nonostante io stessi facendo un piano di accumulo ma l'ho battuto del tipo del 10-15% le S&P 500 in un anno che è molto 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 interessante come cosa detto questo ragazzi io spero che questo video qua vi sia piaciuto lasciando un bel like, un commento e mi raccomando vi ricordo di passare nei link in descrizione che avete la possibilità di riscattare questo prodotto qua totalmente in modo gratuito ovviamente solo fino a oggi e domani e poi vi ricordo anche che se riscatterete questo file qua avrete la possibilità di provare anche la newsletter ovvero questa cosa qua che vi invio una volta a settimana a lunedì totalmente in modo gratuito per altre due settimane quindi io personalmente penso che i prodotti che vi stiamo offrendo in modo totalmente gratuito per ora siano da provare assolutamente quindi vi invito cortesemente ma penso che sia più un vantaggio vostro che mio ad andare a provarli quindi detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao